Nicole lascia Alex o la band? Ecco la versione di Eleonora. Ma stai lasciando la band? O stai lasciando me? Nicole lascia Alex. Ma come? E abbandona anche la band per seguire una sua nuova passione. La cucina? Il giardinaggio? Gli scacchi? No. Vuole diventare regista di teatro? Allora sicuramente coinvolgerà anche Sam. Sicuramente. Allora se ha lasciato Alex, vuol dire che si avvicina a Sam? Senza ombra di dubbio. Anche perché Rebecca parte per gli Stati Uniti con una borsa di studio? Dopo aver avuto Sam come tutor? Perché no? E nel frattempo Alex invadisce di una ragazza nuova. Che è Clio. Eh già. Sì, ma poi Nicole coinvolgerà anche Emma nel progetto del teatro. Che scriverà una canzone per lo spettacolo. Che canterà Alex sotto un'altra identità. E questo permetterà ad Alex e Nicole di riavvicinarsi. Mi piace. Ma questa è solo una versione. Perché tutto può ancora cadere. Ma stai lasciando la band? O stai lasciando me? Ma secondo voi? Che decisione prende Nicole? Che conseguenze avrà sul gruppo? Scrivete la vostra versione nei commenti qui sotto.